Ragazzi oggi è lunedì il che significa che è tempo di giveaway e oggi il vincitore della giveaway è Leo e potete vedere la transazione su BSC Scan proprio qui e quindi congratulazioni a Leo e grazie mille a tutti quanti gli iscritti e se non siete ancora iscritti e potreste considerare di farlo sarebbe assolutamente fantastico e inoltre ogni lunedì facciamo una nuova giveaway e per partecipare basta soltanto essere iscritti e seguire le istruzioni che spiegherò in qualsiasi momento durante il video e come sempre ragazzi buona fortuna a tutti e adesso cominciamo con il video Ragazzi oggi abbiamo un video ricco di azione in cui parleremo di Bitcoin che poggia su questo supporto proprio qui su questa linea rossa e cosa significa questo per Bitcoin? Parleremo anche dei pesci grossi e di cosa stanno facendo in questo preciso periodo esaminando alcuni dati che ci dicono che sta succedendo e faremo un confronto tra il 2013 e adesso in quanto abbiamo alcune somiglianze e che significa questo per Bitcoin? Come sempre parleremo anche dei mercati tradizionali e di tutto ciò che dovete sapere oggi Ragazzi bentornati a tutti, mi chiamo Marco, portano un video riguardo le crypto ogni giorno, mostrano come fare soldi in questo tipo di mercato e se siete nuovi potreste considerare di iscriverti e fare anche la campanella sarebbe assolutamente fantastico e adesso ragazzi iniziamo con il grafico giornaliero che è il grafico che abbiamo guardato nelle ultime due settimane e quello che potete vedere qui è che siamo ancora al di sotto della linea blu e vi ho detto un paio di giorni fa che se scendiamo da questa linea blu e se non riusciamo a superarla e chiudere al di sopra di essa questo è un segnale bearish ed è probabile che vedremo altre discese quindi in questo momento è esattamente quello che è successo, non siamo riusciti a raggiungere e siamo scesi al di sotto della linea blu non siamo riusciti a rimanere sopra di essa e in effetti questa candela si è fermata proprio sul bordo del supporto che abbiamo che è la media mobile da 200 giorni e quindi questo è un segno bearish per bitcoin e per quanto voglio dirvi che tutto quanto staranno bene a breve termine per il mercato qui siamo stati molto metodici, abbiamo visto crollare i modelli a breve termine abbiamo visto bitcoin diventare un po' bearish a breve termine e poi l'abbiamo visto anche diventare un po' bearish anche a medio termine e ora stiamo guardando anche gli schemi a tempi più lunghi in cui sto per entrare ma questo è quello che mi dicono i grafici per quanto mi piacerebbe come dire dirvi che bitcoin andrà 100.000 dollari domani ma i grafici ci dicono che potremmo vedere qualche altro lato negativo prima che le cose comincino a recuperare ma vi mostrerò un confronto quindi quando rimpiccioliamo il tutto allora le cose sembrano ancora, non sembrano molto disastrose ma dovete solo stare attenti con questi obiettivi a breve termine con schemi a breve termine poiché potremmo scendere un po' di più prima di vederci voltare pagine e magari avere un grande rally per bitcoin e quindi voglio anche mostrarvi un grafico da 4 ore perché quello che potremmo vedere invece nel grafico da 4 ore è che siamo ancora all'interno di un modello molto molto importante e questo è anche utile se siete per esempio un trader, un day trader o se siete anche un trader a breve termine e questo appunto è il livello di resistenza e questo è il livello di supporto quindi abbiamo questo cugno e possiamo andare intorno a questo cugno come stiamo facendo in questo momento per esempio e quindi potremmo vedere che stiamo ancora seguendo questo schema e quindi il supporto che abbiamo per questo schema è a 44.700$ e la resistenza invece è in alto a 47.600$ e questo può anche essere regolato se volete tracciare il cugno da un diverso modo, questo conta solo i corpi delle candele quindi potete farlo anche direttamente dai corpi invece che li stopponi bene, allora sembra un po' un cugno in discesa che in realtà è uno schema bullish tuttavia se vediamo una rottura o un'introduzione in una delle due direzioni qui molto probabilmente porterà a una mossa aggressiva per Bitcoin e inoltre voglio anche mostrarvi il Lux Algo per tutti coloro che hanno preso il Lux Algo da quell'enorme sconto che c'era tipo qualche settimana fa e quindi se siete in grado di vedere il segnale di venita proprio qui e questo è la giusta 56.000$ e questo è stato un segnale di venita molto molto buono su Lux Algo che vi ha salvato da tutto questo aspetto negativo che abbiamo ricevuto di seguito e quindi congratulazioni a tutti coloro che sono entrati nel Lux Algo e naturalmente se volete anche provarlo voi stessi potete utilizzare come sempre il link in descrizione avere un 20% di sconto su questo trading tool e inoltre se volete un bonus fino a 3.500$ su Femex avete il link qui e 4.300$ e 530$ su Bybit usando questo link avete anche 8.000$ su Ctrade ovviamente ci sono requisiti di deposito e quindi assicuratevi di controllarli ma ogni volta che riceviamo un segnale di acquisto per il Lux Algo e questo segnale è stato un po' una delusione perché non si è rivelato buono se avete comprato qui state facendo un paio di percentuali in perita ma generalmente quando riceviamo un segnale di vendita o acquisto nell'Ox Algo di solito è un segnale molto molto buono che stiamo per fare qualcosa di importante di solito è molto redditizio e potete vedere il segnale di vendita che abbiamo ricevuto a circa 63.000$ o 62.000$ e anche i segnali di acquisto erano molto buoni abbiamo avuto segnali di acquisto a 42.000$ e anche a 30.000$ quindi vi trovo aggiornati sui prossimi segnali che riceveremo sull'Ox Algo e adesso ragazzi andiamo avanti perché la prossima cosa che voglio mostrarvi è ovviamente il livello di supporto principale a 42.000$ e sì stiamo scendendo qui stiamo scendendo lentamente questo livello a cui comprerò molti Bitcoin ovvero i 42.000$ ma adesso invece cosa abbiamo riguardo Bitcoin su tempi più lunghi? bene abbiamo ancora questo enorme cuneo questo cuneo crescente proprio qui e quindi questo è che ci sta avvicinando al supporto e che in realtà è a 44.000$ e quindi proprio a 44.000$ e 500$ o 700$ ci sono diversi modelli che ci mostrano che quello sarà il supporto e prestate attenzione al fatto che ci stiamo avvicinando proprio in questo momento e questo è uno schema a cui presterà attenzione e in effetti sul settimanale possiamo vedere anche un livello molto molto importante se ingrandisco il giornaliero potrei vedere che ci stiamo riposando proprio ora non solo ci stiamo riposando proprio su di esso stiamo anche formando un piccolo triangolo in queste zone perché potrei vedere qualcosa per esempio del genere quindi abbiamo questo triangolo che si sta formando oppure potete anche tracciarlo dal punto più basso oppure dal punto più alto comunque sia sta formando qualcosa del genere e tuttavia stiamo formando questo e se scendiamo cosa che sembra che stiamo per fare proprio qui i bulls stanno cercando di proteggere questo livello con tutto quello che hanno perché se scendiamo da questo livello a 46.000$ ciò significa che anche nei tempi di tempo dei periodi più lunghi come nel grafico settimanale avremo qualche modello bearish e quindi guardate questo livello a 46.000$ abbiamo bisogno che questo rega il prezzo di Bitcoin per essere ancora super bullish per Bitcoin e ora invece prima di parlare effettivamente del confronto che abbiamo avuto nel 2013 e il 2020 quindi questo qui voglio mostrarvi anche i mercati tradizionali perché stiamo assistendo ad un enorme dump nei mercati tradizionali quindi nell'SP500 il prossimo livello di supporto sarà ovviamente a 4.000$ e 478$ e quindi vedremo ragazzi vedremo se saremo in grado di raggiungere questo livello ma non si può negare che stiamo assistendo a cali molto molto grandi nei mercati tradizionali in questo momento e se scendiamo da livello dei 4.000$ e 475$ e quindi questo livello qui in basso nell'SP500 dubito che questo livello possa effettivamente reggere anche per Bitcoin il grafico giornaliero e quindi preparatevi per questo e ragazzi invece prima di parlare dei pesci grossi voglio anche mostrarvi un confronto che abbiamo proprio qui quindi questo è tra il 2011-2013 e il 2018-2022 quindi nel 2011 se tracciamo un Fibonacci tra i massimi a 30$ fino al punto più basso a 2$ otteniamo questi livelli di ritracciamento di Fibonacci e se facciamo la stessa cosa dal punto alto nel 2017 dove abbiamo i 20.000$ fino al punto più basso dove abbiamo i 3.000$ bene abbiamo un Fractal che possiamo guardare qui sì abbiamo un Fractal perché è quello che potrei vedere che nel 2013 siamo saliti quindi dopo il punto più basso nel Fibonacci siamo saliti con il prezzo al punto 7.8.6 che è il punto che abbiamo verso l'alto del livello di Fibonacci e poi abbiamo avuto un piccolo ritracciamento come potete vedere e potete vedere la stessa identica cosa anche nel ciclo successivo quindi nel 2018-2022 potete vedere che abbiamo avuto la stessa identica cosa al basso siamo saliti al punto 7.8.6 e l'abbiamo colpito proprio qui e poi abbiamo avuto un rifiuto del prezzo e siamo andati in basso e poi abbiamo fatto un enorme movimento parabolico quindi nel 2011 o nel 2012 in realtà abbiamo avuto un movimento parabolico fino al livello di Fibonacci che abbiamo in alto a 1.618 e questo è il nostro livello di Fibonacci che vi ho mostrato anche nei miei grafici e quello che potete vedere è che abbiamo avuto la stessa identica cosa anche nel 2021 fino al livello di Fibonacci 1.618 e poi abbiamo avuto un po' di rifiuto proprio come abbiamo visto anche nel 2011 a 1.618 e poi abbiamo avuto un secondo passaggio parabolico fino al 2.236 e quindi non abbiamo avuto questo movimento ovviamente in questo ciclo e questo è fondamentalmente ciò che ci resta per avere una cosa simile a quella che abbiamo visto nel 2011 e nel 2013 pensate che accadrà o pensate che questo modello non andrà a funzionare fatemi sapere nei commenti e ora ragazzi infine voglio parlarvi dei pesci grossi perché vi ho detto di essere molto molto cauti perché i pesci grossi avevano trasferito molti Bitcoin quando guardate appunto il Bitcoin trasferito nell'exchange durante l'inizio di dicembre la stragrande maggioranza proveniva dai pesci grossi e questo è il motivo per cui dovevamo essere cauti bene da allora quello che potete vedere è che dall'inizio di gennaio quando abbiamo visto quei grandi trasferimenti dei pesci grossi dall'inizio di dicembre sapevamo che molto probabilmente avrebbero venduto bene adesso stop un attimo il video vi spiego come partecipare alla giveaway per partecipare alla giveaway dovete semplicemente essere iscritti al canale e rispondere a questa domanda nella sezione dei commenti quale Alcoin pensate che performerà meglio degli altri in questo ciclo fatemi sapere nei commenti e inviate anche il vostro portafoglio di Binance Smart Chain altrimenti non possiamo selezionarvi come vincitori e quindi ragazzi buona fortuna a tutti adesso continuiamo con il video se guardate il totale di Bitcoin trasferiti fuori e dentro l'exchange e questo è solo un rapporto di quanto Bitcoin nell'exchange viene trasferito dai pesci grossi e non persone normali e invece quest'altro rapporto quello successivo invece è il totale il complesso quindi di Bitcoin quindi i Bitcoin in generale che provengono dai pesci grossi e investitori normali e quello che potrete vedere è che dal 5 di dicembre abbiamo visto enormi deflussi di Bitcoin in realtà specialmente questo è qui nel 17 di dicembre abbiamo avuto un grande deflusso di Bitcoin dall'exchange e quindi è piuttosto strano di solito dovreste vedere il prezzo scendere in correlazione con il trasferimento di Bitcoin nell'exchange ma ora state vedendo il trasferimento di Bitcoin fuori dall'exchange e il prezzo sta scendendo in generale quindi questa è una cosa strana e questo dimostra che la mia tesi è probabilmente corretta ovvero che i Bitcoin trasferiti nell'exchange dai pesci grossi sono stati venduti per manipolare il mercato hanno fatto tutto ciò per spaventare gli investitori normali e le persone che stanno vendendo in questo momento sono gli investitori al dettaglio e stanno vendendo Bitcoin e poi i pesci grossi stanno trasferendo il loro Bitcoin fuori dall'exchange e quindi non riesco a vederlo in nessun altro modo ragazzi potrei sbagliarmi ma avrebbe un senso trasferire Bitcoin nell'exchange e vendere spaventare e far vendere agli altri e poi accumulare Bitcoin a un prezzo molto più basso e trasferirlo fuori dall'exchange quindi in sostanza gli investitori al dettaglio stanno vendendo il loro Bitcoin ai pesci grossi a basso costo e questo è il motivo per cui sto vendendo Bitcoin in questo momento ragazzi e quindi anzi ad un certo punto andrò ad accumulare Bitcoin a livello dei 42.000 dollari se raggiungiamo quel livello e ricordate che tutto può cambiare molto rapidamente nelle crypto anche se il sentimento è molto bearish per ora e non credo che durerà ancora per molto ma potrei sbagliarmi e quindi ragazzi questa è quella mia tesi grazie mille come sempre per aver guardato questo video fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto e come sempre ci vediamo nel prossimo grazie a tutti